Ciao care amiche e amici di YouTube. Qualche settimana fa ho incontrato una mia cara amica dei tempi dell'università. Era un po' che non ci vedevamo e così ci siamo prese il pomeriggio libero e abbiamo iniziato a parlare molto delle nostre cose, le nostre famiglie, il lavoro e la situazione in generale. Sono emerse anche tutte le notizie negative che sentiamo ogni giorno, le calamità, il governo, le guerre terribili, le crisi umanitarie come in Siria. Accadono tragedie inspiegabili e anche qui da noi non c'è lavoro per i giovani, si allunga l'età della pensione per chi ce l'avrà, forse. Tutto cambia e non sappiamo perché o chi abbia deciso questi cambiamenti sopra le nostre teste e sotto i nostri piedi. I venti dell'incertezza spazzano il mondo e sembra non vogliono calmarsi. Ve ne siete accorti? Li sentite soffiare anche voi? Sì, ma Simona oggi ci parli di politica? No, sto parlando di situazioni reali da cui non possiamo sottrarci. Parlo di noi tutti, di chiunque stia guardando questo video. Non serve mettere la testa sotto la sabbia o chiudersi in casa o aggrapparsi a vecchie certezze perché oggi crollano. Per resistere a noi persone comuni di buona volontà serve una qualità molto importante che è la più utile oggi per affrontare questa vita sempre più incerta. Volete sapere qual è? Oh yes of course, è la forza interiore. Ecco adesso mi tocca diventare l'incredibile Hulk. No, non è una forza sovrumana. La forza interiore è semplice, è la capacità di affrontare gli alti e bassi della vita senza farsi travolgere, di attraversare la tempesta senza perdere la rotta, di rimanere positivi e fiduciosi anche quando tutto va storto. Ancora peggio, mi sa che è più facile diventare verde. Lo so, a volte sembra impossibile, ma pensateci bene, tutti conosciamo almeno una persona con una personalità ben definita, sempre calma, sempre positiva, anche quando le cose non vanno proprio benissimo. Di sicuro conoscete un personaggio storico o famoso con queste qualità, qualcuno che vi ispira. Ecco, quello che vi ispira di questa persona è la forza interiore. E la forza interiore, come l'autostima e la forza di volontà, è collegata a due fattori. Il primo, probabilmente lo conoscete tutti, pensare nel modo giusto, avere il giusto atteggiamento. Ma non tutti conoscono il secondo fattore. La forza interiore dipende da un altro elemento molto sottovalutato in questo campo, che nella nostra educazione non viene considerato, anzi viene sminuito. Questa colonna che sorregge la forza interiore è la salute fisica. Ma sei sicura? Stiamo parlando di forza interiore, non di forza brutta. Viene difficile accettarlo, vero? Troppo semplice. È così? Ma è così, ve lo posso dire per esperienza personale e professionale. Quando esprimo questo concetto le persone mi guardano con stupore, ma la forza interiore è collegata a come stiamo fisicamente. Pensate al sistema nervoso, sistema immunitario, il metabolismo, le ghiandole interne, sono tutti determinanti per come affrontiamo il mondo esterno. Per noi donne è più facile capirlo. Spesso quando abbiamo il ciclo, la nostra personalità e la nostra forza interiore sono in balia degli sbalzi ormonali e non sono più così accessibili. Ci sono tante altre situazioni correlate. Voglio che ci pensiate e che proviate a fare delle considerazioni. Resterete molto colpiti da quello che sentirete dentro di voi. Ecco, questa è la prima parte della nostra riflessione. Maturate questo passaggio. E nel prossimo video sulla forza interiore vi darò quattro strategie per sviluppare la forza interiore e stare anche meglio fisicamente. Stay tuned. Nel frattempo iniziate a condividere questo mio video e datemi un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Iscrivetevi al canale per tanti altri consigli di salute naturale e crescita interiore. Attivate le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video naturalmente. Ciao!